Le condizioni meteorologiche non hanno aiutato i vacanzieri ferragostani che avevano scelto di trascorrere al mare le meritate ferie di metà agosto. È da giorno 15, infatti, che una perturbazione sta interessando buona parte del territorio ebleo, facendo registrare mare mosso e vento anche sul litorale. Oggi, intorno a mezzogiorno, un violento temporale si è abbattuto nel Modicano, provocando qualche allagamento in scantinati e piani bassi degli appartamenti e qualche disagio agli automobilisti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 12.30 nella zona del polo commerciale di Modica e alla circonvallazione ortisiana. L'instabilità, secondo le previsioni, nelle prossime ore interesserà buona parte del litorale. Anche domani, mare da poco mosso a mosso, nelle prime ore pomeridiane, nuvole e qualche precipitazione temporalesca faranno abbassare di qualche grado la colonnina di Mercurio. Per vedere il mare un po' più calmo bisognerà attendere almeno fino a domenica, quando le condizioni meteomarine miglioreranno leggermente.